adoro il cioccolato solo un po una volta ogni tanto lo adori anche tu Dibo hai ragione i cani non possono mangiare il cioccolato fa male al loro stomaco mi domando come si fanno le tavolette di cioccolato idea geniale possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito mi serviranno ali overcraft e un motore a propulsione ali overcraft motore a propulsione confermati attivare la stazione di Blippi miniaturizzazione la Blippi mobile è pronta per l'avventura entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato ehi là non siete fave di cacao ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette direi di no io sono Blippi e lui è Dibo ciao Blippi ciao Dibo sono Etta la tavoletta di cioccolato benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato grazie Etta vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato possiamo venire con te cioccolatamente tutto inizia con le fave di cacao che provengono dalle piante e come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato le fave di cacao fanno un piccolo viaggio prima tappa un bel bagno poi vengono arrostite e tostate per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina la polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte diventa dolce e saporita andiamo Dibo è ora di sciare no ma sarà divertente una Dibo tavoletta di cioccolato dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette le avvolgiamo e sono pronte oh voi due siete identiche e io ho la risposta alla mia domanda come si fanno le tavolette di cioccolato le fave di cacao vengono lavate tostate polverizzate mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato carica la risposta a Dibo etta grazie per questa dolcissima gita quando vuoi ciao Blippi ciao ciao ciao